Alberto, contro il Catanzaro la vostra prova è stata ottima, è mancato il guizzo vincente, almeno così ha detto Mr. Massimo Paci al termine dell'incontro, sei d'accordo? Sì, sì, assolutamente, contro una squadra del genere abbiamo fatto una grande prestazione, squadra che, guardando la rosa, è tra i più forti del campionato, nonostante avessero qualche assenza come noi del resto abbiamo fatto un'ottima prestazione, ci è mancato, come hai detto te, quel guizzo finale che però avrebbe solo coronato maggiormente una grande prestazione. Nove assenze, non sono poche per voi, nonostante questo gli attaccanti del Catanzaro non hanno praticamente toccato palla, in difesa siete stati bravissimi, non concedendo nemmeno un tiro in porta a giocatori forti ed esperti come magari Felice Vacuo. Assolutamente, loro dal punto di vista dell'attacco avevano giocatori veramente forti, d'esperienza, si è stati bravi a non concedere niente, forse mi sembra che Vandowski ha fatto forse una parata e questo fa capire che siamo una squadra solida, che quando scendiamo in campo con il giusto piglio possiamo fare grosse prestazioni contro qualunque squadra. La prossima gara contro il Catania si volerà in Sicilia, una partita anche questa durissima. Sì, molto dura anche perché loro arrivano da una bella vittoria, anche loro un grande organico, squadra forte che davanti a noi cercheremo di portare a casa il massimo risultato possibile e quella prestazione di ieri ci può dare solo che voglia di migliorare e di fare un'ottima prestazione contro una grande squadra.